L'estrazione di simbolotto, il nuovo gioco legato all'otto, di oggi giovedì 3 novembre 2022, la combinazione di simboli e numeri in diretta simbolotto è il gioco complementare all'otto. Per ciascuna giocata all'otto, l'otto più effettuata su una determinata ruota in promozione, che cambia ogni mese secondo un calendario, viene assegnata sullo scontrino una combinazione casuale di 5 simboli, tra 45 disponibili. L'estrazione della combinazione dei 5 simboli vincenti avviene 3 volte a settimana con l'estrazione del gioco dell'otto. Di seguito il calendario delle ruote in promozione per partecipare gratis all'estrazione. Simbolotto, la combinazione di oggi giovedì 3 novembre al termine dell'estrazione delle undici ruote l'otto, si estraggono 5 simboli vincenti da un'urna meccanica dedicata al simbolotto, dalla sede estrazionale di Roma. Per sapere se si ha vinto basta confrontare i simboli stampati sullo scontrino con quelli estratti e si vince in base a quanti ne ha indovinati, a prescindere dall'ordine in cui sono stati estratti, e all'importo giocato sulla specifica ruota. L'esito del gioco è indipendente dalla giocata base effettuata sull'otto e le vincite all'otto si possono sommare a quelle del simbolotto fino al limite previsto dalla normativa vigente. Ruota di Torino, 28 ombrello 3 gatta 36 nacchere 33 elica 18 cerino. Ruota di Torino, 28 ombrello 3 gatta 36